Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Celidonia Studio Oggi non è un tutorial, perché coniglietti, topini, fatine e la sottoscritta si stanno preparando per Miniatura Italia l'unica fiera di miniature italiana Trovate il link nell'info box qui sotto In questo video vi terremo compagnia con alcune delle mini sculture che porteremo lì Una micro fatina con il suo amico fettirosso Una piccola baby fatina E un elfo nella sua noce La protagonista dei miei primi video La mia Don't cry, non piangere Potete leggere la storia della bimba e del coniglietto nel blog Angel Qualcuno ha lunghe orecchie al posto delle ali Un bacio Un bacio Un bacio L'amicizia è fatta di differenze Qualche piccolo pettirosso Un bacio Un bacio Un bacio E i miei topini impertinenti Grazie a tutti. I lamponi sono buoni. Il mio primo codibugnolo, che ama i melograni. E anche alla cinciarella piacciono. Il mio primo codibugnolo, che ama i melograni. Vi aspettiamo a Milano, a Miniatur Italia, il prossimo 7 e 8 febbraio e il 6 per i workshop. Ci vediamo qui tra due settimane. Ciao! 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 Ciao!